Oscillatore? Envelope generator? Control voltage? Se questa terminologia ti sembra così strana, allora il corso di Sound Design Base fa al caso tuo. Il Sound Design è la meravigliosa arte di costruire e modellare nuovi suoni, rumori e timbri particolari. Imparerai ad utilizzare un sintetizzatore modulare sia in versione analogica che digitale per costruire library e sonorizzare dei video. Sono Davide Pantaleo e questo è il mio corso di Sound Design Base.